buonasera ragazzi siamo qua con ma chi è questo questo ceffo dall'aria poco rassicurante sembra un po impegnato impegnatissimo affondati un brigantino un brigantino ma ragazzo ragazzo non è vero no no non l'avamo mai detto tutte false a tutte cose false detti da corsari invidiosi invidiosi allora sì li voglio così tanto bene se li accompagno mano per la mano dove fare un bagno a mare ah beh allora sono fortunati pure dritto non è vero che è una volta che qualcuno l'ha detto io ho anche issato la bagliera mercantile lo giuro e non è che l'ho issata perché volevo scoprire le rotte più renditizie e poi alzare il jolly immaginavo guarda cioè proprio è bello essere un dillo ce la fai mercato no cosa no questo è falso cosa non ho mai detto che ho una collezione di stecche o meglio di bandiere di mercantico e ma mi parte già con le mani avanti è una volta di parte la dalle break si hai detto capitano 3 eh sì che l'ha detto lui è un priamo capitano 3 festoni eh non capisce niente eh già festoni eh festoni cosa se preferisco più un giorno la mercante o il kraken difficile ci chiedono questo dalla regia con un kraken che abbraccia un mercante amore amore a prima vista così perché poi proprio il mercante cioè non lo so addirittura sembri resti sono la persona più pacifica del mondo no mercante rubare kraken jolly roger che è successo ok in giro pacificamente immagino una nave con una bandiera blu blu e ho detto ma che fai sicuramente avranno bisogno di aiuto aiutiamo amici amici quindi che hai capito e che problema avevano avevano finito le palle di cannone no per un mercante è vero di dargli delle palle di cannone molto bene molto bene scambio di merci e quindi che cosa abbiamo fatto potevo dargli le palle di cannone è un modo c'era ma se fosse arrivato il kraken potevamo anche avvicinarci no fortuna che ripresenta a distanza da distanza molto bene a parabola a palombrella un tizio molto bene eh incidente sul lavoro sì i rischi del mestiere i rischi del mestiere anche loro ti amano te lì piene di tesori tesori e le tue palle a palombella uno scambio equo eh vabbè quanta salute ho portato a loro tolta tolta sicuro va bene posso sì esatto volevamo chiederti questo se potevi cantarci una canzone sappiamo che sei un giusto giusto sui mercati certamente sentiamo 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 tutti vorrebbero avere uno come te in nave mamma mia cioè ragazzi sentiamo questa canzone comunque è ah l'attacco è buono chissà domani è proprio una poesia la presa in prestito ci trovavano i mercati sentiamo amici per la pelle eh gesagt se vedete un bel cante preparatevi oh, 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 oh oh vabbè, devo dire che però il tono è ottimo ovviamente quello forse è meccano il tono suo buono non è vero che sono crudele, non è vero che sono mieditore, io sono una missione del cuore aiutare, bravo, se ci sono io non temere, non mettiti, no no, così capisco, no facciamo così, no no, abbiamo capito, no, cambiamo, intanto no, sembrava anche molto rassicurante, vogliamo il mercato, guardate, lo dimostro, se questo l'ha convinto, non suonarla mai sulla banchina però, quella di prima, mi raccomando, se no, ma bella che bella, questa è un po' etica, sì, sentiamola, le leggiano lo scuppo in lontananza, con tanto carico in affondanza, la miglia nave lo vederà lontano, ci avviciniamo con le palle in mano, ah, lo scambio di prima, doveva essere lo scambio di prima, certamente, loro alzano la bandiera bianca, mi ricorda qualcosa questa chiesa? sì, storie di vita vissuta, questa, ma per cosa, stanno lavorando, ancora io capisco cosa succede, non ero un mercante ma un feroce pregata, ma è questo da vedere, è questa bandiera bianca, le persone cattive, sono printa di essere mercanti, sì, non tutti però, quindi che fai, sono persone che maltrattino i figli, no, 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 e se non sono onesti e semplici mercanti, io, ma giusto non rischiamo, aiutare questi poveri bambini, queste povere nonne maltrattate da questi signori, sì, non lo sia mai, il palladrio della giustizia, attenzione, eh, ma beh, torniamo sempre lì, è un cane che si mangia alla donna, e poi torniamo i canoni, va bene, prepariamo i canoni, e poi torniamo sopra il cane, si, 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 ma no, si, una profusione, un breve, è vero, la legge del mio editore, la legge del mio editore, appena forzata, così, senza chiedersi niente, cioè, ok, dopo la strada, ok, no, ma loro erano quelli che maltrattavano, giusto? ah, ecco, sì, ci correggiamo, è meglio, eh? io ci tengo a loro, sì, anche loro a te, sono loro che non ci tengono, siamo venuti qui con delle fiertze, anche Drake ce l'aveva detto, eh, va, compriamo, eh, ha detto che... lo sai, lo sai, è stato un obbligato minacciando con un'arma, beh, certo, anche con la scoppietta? sì, quello, dicerie, era un caso, vuol dire, mentre guardavo con il cannocchiale, sì, quello slug, che casualmente, aveva la bandiera bianca no blu bianca è uguale tanto di loro faceva delle cose strane con le mani se fosse possibile e se fosse un altro jeff vorrei tanto camocchiare si camocchiare e abbiamo cacciato il diavolo in corpo a quell'uomo in fondo al mar ci sono i giusti tizi che muovono le mani si guardava male dov'è un po è forse non era quello che ha preso con la palla di prima no praticamente noi andiamo via con l'insicurezza ancora che tu fosse un mercante un mietitore vabbè ma di questo non c'è dato sapere giusto vediamo che dice cantine affondare eh si difendere i dizionari ai giorni d'oggi i dizionari sono vabbè ti lasceremo allora buona strada buona strada